Contatore monofase. Molte grazie a RUBERTS33 per questo contatore elettrico. Il mio primo metro elettrica italiana. Di tensione 220, 127, 40, 5, 20 ampere. Molte cose, Robert, per questo molto buono italiana mettero che ti senti a me, davvero apprezzato. E questo è il mio primo italiano mettero che ho nella mia collezione. Molto interessante, è un mettero 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 di 127 e 220 volti. Quindi il corrento in un colo e il secondo mettero mettero in un colo. E' un mettero e il mettero e la scena. E' un mettero e il mettero. Per ottenere il mettero, il mettero viene in l'arra, il mettero viene in l'arra. Il mettero ha dovuto andare sul l'arra e in l'arra per l'arra per ottenere. Per ottenere il mettero e il mettero funziona bene. Per ottenere il mettero, il mettero è il mettero, il mettero viene in l'arra per l'arra. Non è sicuro cosa significa. Molto grazie a Rupert e andiamo a vedere l'arra del mettero. Molto interessante e potenziale colo. È un'opera, non ho mai visto il mettero. È un'opera, è un'opera, è un'opera e il mettero e il mettero. È un'opera, è un'opera e il mettero. Mettero mettero. è in una buona condizione made up a new bracket for here from aluminium and tapped some holes in it the other bracket was not complete but it's no problem so again face current in out neutral current in and out take the nameplate off and we'll have a look at the holes inside terminals current in potential and on the other one current in and out and a potential for the core the regis says aluminium number drums and plastic Geneva movements here from the other side nylon gear wheels many thanks again robert 33 i will put a link on your channel also for other youtubers have a look at robert 33 video channel he got some awesome electrical experiments on there very well set up and beautifully finished so have a look on this channel many thanks robert thanks for watching have a great day cheers cheers you you